Quanti anni avete? Dieci. Perché siete qui stamattina? Per vedere il Presidente della Repubblica. E chi è il Presidente della Repubblica? Giorgio Napolitano. Lo sapete invece chi era questo signore? No. Garibaldi? Giusto. E Manzini lo sapete chi era? Sì. Manzini. Se poteste fare una domanda al Presidente, che cosa gli chiedereste? Io gli chiederei se è difficile comandare tutti quanti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.